Cura, welfare, impresa sono le tre direttrici che informano tutta l'attività della neocostituita impresa sociale FORME, frutto della fusione fra le cooperative Ardesia di Tirano e Ipogrifo di Sondrio. La prima, nata nell'89, è operativa nell'assistenza agli anziani, la seconda nata nel 93 e tesa al supporto alle fasce giovanili, preadolescenziali e adolescenziali, realtà diverse per obiettivi e target, accomunate però dall'impegno nei confronti delle persone fragili, della comunità e del territorio, di cui una innata propensione all'intesa, alla collaborazione, spintasi fino ad una fusione meditata e costruita a partire dal febbraio dello scorso anno. Il primo di ottobre si concretizzerà il percorso di fusione tra Ipogrifo e Ardesia, che sono due cooperative sociali che da oltre 25 anni lavorano in provincia di Sondrio e fanno servizi e progetti a favore delle persone, con particolare attenzione alle persone in difficoltà e con fragilità. L'idea è quella quindi di costituire dal primo di ottobre un'unica realtà che si chiamerà Forme Impresa Sociale. Con l'obiettivo di creare insieme qualcosa di nuovo, di grande ed inclusivo, all'interno del tessuto sociale valtellinese, con particolare riguardo agli ambiti territoriali di Sondrio, Tirano e Bormio, in cui le cooperative originarie erano già ben introdotte. La nostra attività sicuramente rispetto appunto anche al nome Forme, c'è un motivo molto particolare, perché Forme si svolupperà in forme di cura, forme di welfare e forme di impresa, per cui ci sarà una vasta gamma di servizi per quanto riguarda il benessere e la cura della persona, negli anziani, nei giovani, nei bambini, nell'infanzia e anche di carattere imprenditoriale. Questa sarà la nostra nuova impresa sociale. Tenendo presente che di una vera e propria impresa si tratta, capace di garantire occupazione a 180 persone, di cui il 40% è al di sotto dei 35 anni e l'85% è donna. Per un fatturato complessivo di 5 milioni di euro. Forme, che si richiama anche alla declinazione inglese, For Me, unirà quindi le forze per continuare ad occuparsi, con rinnovato slancio, di assistenza agli anziani, ai bambini, agli adolescenti, ai disabili, alle famiglie e agli adulti in difficoltà, senza dimenticare le attività imprenditoriali già in essere, fra cui l'allestimento del pastificio 1908, con produzione di pasta senza glutine dentro il carcere di Sondrio, Strachair, l'azienda agricola sociale di Ponte, e TiraListori, la libreria di comunità di Tirano.